sveglia sveglia è arrivato il momento di andare a caccia con l'ultimo movimento dell'autunno di vivaldi i cacciatori sono ormai nel bosco i cani abbaiano con furia mentre l'offuscamento del sonno lascia il posto alla corsa disperata di una nobile cerva femmina qui il violino in un disarmante susseguirsi di note sembra esprimere ora la ferocia dei cacciatori sempre più vicini alla preda ora il triste tentativo dell'animale di mettersi in fuga tra rapide note arpeggiate che variano velocemente prima frettolose riprendendo la marcia del tema principale si insidiano sentimenti contrastanti alla chiusura sempre più tenue in cui secondo il sonetto non c'è più via di scampo per il fiero animale ecco che l'evento triste di un essere rappresenta la gioia incontrollata di un altro e il ciclo contrastante si torna a chiudere e rappresenta da sempre l'essenza del tempo come della vita solo un maestro come i vivaldi avrebbe potuto rendere un concetto tanto sfuggente dalla portata dell'orecchio di tutti donando forma e colori della natura attraverso la musica grazie a tutti grazie a tutti